Ma perché Gesù pregava? Questa è una bella domanda perché ci fa capire l'importanza della preghiera. La preghiera è essenziale alla fede perché la preghiera è comunione con Dio ma non è fusione con lui. Anche Gesù pur essendo lui stesso Dio non è fuso con il Padre. Nella preghiera c'è sempre un io e un tu, c'è sempre un dialogo, una relazione, così la preghiera porta anche noi ad essere in comunione con il Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo. Ma questa preghiera non annienta la nostra persona. Nella preghiera Dio non vuole annientare ciò che siamo, ma vuole valorizzare il nostro essere.